Ah auguri Berlusconi Dario mai visto Mi hanno già messo i box Ma non scandalo Sì avete rotto i coglioni Mannaggia la puttana Smettetela per favore Perché vi apro il culo Dario ma queste cose Una giornata veramente impegnativa Oddio 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 Il tipo che ha dato il via A un'operazione di terrore All'interno del gruppo Telegram Oddio Oddio La carta di Frederick God Non è imbustata all'interno del pacco È vero si poteva implasticare la carta Ma non ti preoccupare Perché la bustina Dà solo un'idea di protezione Ma se nel pacco Riceve una botta Plastica o non plastica La carta si rovina Quindi Non cambia niente Tranquillo Oddio Però mi è arrivata La carta degli amici Ma scusa La tua l'hai vista nel pacco No Quella degli amici è rovinata Non lo so E allora che cazzo dici Che cazzo dici Che cazzo dici Grazie.